Pia Nicola Teodoro, grazie al vostro interessamento, alla lista Teodoro del Pescara, sono tornate le borse di studio per ragazzi disabili che lavorano al comune di Pescara? Sì, c'era stata una comunicazione a questi ragazzi diversamente abili che hanno una borsa lavoro e qui ne sono otto all'interno dell'amministrazione in cui non c'erano più i fondi per rifinanziare questo lavoro che loro facevano. Tramite l'interessamento in particolare di Massimiliano Pignoli che abbiamo scritto al Presidente dell'Aggiunta regionale, l'Assessore Manella Scrocchio, il Dettor generale della ASL chiedendo di rifinanziare questo progetto così importante per questi ragazzi e abbiamo avuto comunicazione che questo progetto è stato rifinanziato per cui non verrà interrotto questo impegno lavoro che questi ragazzi svolgono per due ore al giorno all'interno dell'amministrazione. Si tratta di un'iniziativa importante anche perché per questi ragazzi è importante fare qualcosa a rendersi utili? Ma guardi, noi ne abbiamo anche qui uno nel gruppo e per loro venire la mattina a sentirsi impegnati, il fatto stesso che si sentono utili poiché noi li impegniamo anche a svolgere diverse attività di collaborazione con la nostra segretaria e direttamente con noi per loro è un punto e un motivo di soddisfazione e questa è la cosa più importante, credo dover dare soddisfazione a questi ragazzi e farli sentire realizzati.